Questa è la vendemmia delle Bonarde al vigneto alle Campagne, siamo nel comune di Castagnito e abbiamo una vendemmia quest'anno eccezionale. Stiamo vedendo la raccolta manuale dell'uva che è molto importante perché come sappiamo le vendemmiatrici raccolgono chiaramente tutto, mentre è importante fare una selezione dei grappoli prima della pigiatura. Grazie a tutti.